E' sceso dall'auto blu con l'austerità e la compostezza che lo contraddistinguono il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prima di varcare la soia di Villa Zito, sede della Fondazione del Banco di Sicilia e della Fondazione Lauro Chiezese, il Presidente si è avvicinato a dei bambini sorretti sulle spalle dei papà, che aspettavano pazientemente il suo arrivo, sventorando le bandierine tricolore. Sono alcuni istanti nei quali si sono dispensati ampi sorrisi, poi Mattarella si è rivestito degli abiti strettamente istituzionali. Il Capo dello Stato all'ingresso è stato accolto dal Sindaco Leo Luca Orlando, dal Presidente della Regione Crocette e da quello dell'Ars Giovanni Ardizzone. Tutti insieme hanno poi raggiunto il secondo piano e la Villa di Via Libertà, dove si trovano i tesori artistici della Fondazione, per inaugurare la Pinacoteca, estesa su mille metri quadrati e dotata di una sala multimediale. Le sale espositive raccontano quattro secoli di pittura, dal 600 al 900. Da Renato Guttuso e Mario Schifano, passando per Cattilo, Iacono, Sironi, senza dimenticare alcune collezioni dedicate a Ettore De Maria Bergler e Pippo Rizzo. Tesori e rarità artistiche che da questo pomeriggio potranno essere ammirate da tutti i cittadini. Il restauro delle oltre 1.600 opere è durato 18 mesi per una spesa di 5 milioni di euro.